L'avventura di Andrea Crosareolo sulla panchina della Delphi è arrivata già al capolinea. Le due sconfitte di fila in campionato contro Cassino e Montecatini, gli errori di gestione e lo scarso feeling con alcuni cestisti, hanno convinto la dirigenza a voltare pagina. La decisione è maturata al termine di un confronto tra il presidente canonico e i responsabili dell'area tecnica Nevole e Rotondi. Crosareolo va via, a suo posto arriva Alessandro Crotti, che è stato preferito a Calvani e Origlio. Nativo di Crema, Crotti, classe 1967, ha iniziato la carriera cestistica nelle giovanili di Treviglio. per poi passare a Piadena per la prima esperienza da capo allenatore a livello senior. Dal 2004 al 2006 ha allenato la Fulgo Romagna, concludendo il proprio ciclo con la vittoria del campionato e la promozione nell'allora B1. Dal 2007 al 2009 la Colce Cremasco ha condotto un'ottima esperienza a Vado Ligure, centrando un'altra promozione ancora in B1. Successivamente ha guidato Rieti, Legnano, Costa Volpino e Orzinovi, mentre nelle ultime due stagioni è stato sulla macchina della Juve Cremona, con cui ha vinto il campionato di Serie A2 nella stagione 2021-2022. In casa Delfest le prossime ore saranno decisive anche per capire la reale entità dell'infortunio a Giunchio adesso di Santucci. A prima di agno si parla di distorsione, ma si dovrà attendere l'esito degli esami strumentali di domani per avere un quadro completo.